L'albero viene visto per secoli come un elemento da cui trarre qualche cosa e mai restituire. La città rinascimentale cresceva in antitesi e in totale separazione dalla selva, c'era la silva e la civita. Adesso c'è una compenetrazione, la città entra nel bosco e il bosco entra nella città. Il 25 luglio segnerà un primo e un dopo, come il 15 di marzo del 2015 in Versiglia, come la tempesta di Vaia. Tutti questi eventi diventano sempre più ravvicinati. Queste tempeste, queste grandi masse di aria fredda che arrivano a livello del terreno e poi esplodono come una bomba con venti in varie direzioni provocano degli eventi turbolenti. Sono fenomeni che aumenteranno sia di intensità che di frequenza. Di conseguenza io credo che sarà sempre più difficile far finta di niente e andare avanti con il normal business. Il 3 Smado Il 4 Smado Il 4 Smado Il 5 Smado In natura gli alberi vivono nei boschi, quindi vivono in un collettivo. Mettere gli alberi in città è una responsabilità. Il verde viene costruito dall'uomo all'interno della città perché risponde a un'esigenza primaria dell'uomo, un'esigenza di bellezza, un'esigenza di natura. Però quando noi andiamo a progettare, a pensare, a costruire questo verde, abbiamo in mente quelle che sono le nostre esigenze e soprattutto quelli che sono i nostri tempi. Noi andiamo a prendere una pianta da un vivaio dove è stata seminata, dove è stata trapiantata, dove è stata zollata, dove è stata potata, dove è stata trattata. Poi la prendiamo e la portiamo in un suolo urbano, che sia un'aiuola, che sia un'alberatura stradale, che sia un parco, ma che non è il suo terreno di origine. La bagniamo, la controlliamo, però poi magari dopo ci facciamo uno scavo vicino. Iniziano tutta una serie di vicessitudini che in qualche modo disturbano. La scienza ha mostrato in ultimi anni, che il stress di drought è molto cruciale per i bambini. E quando i bambini non hanno abbastanza di acqua, per un tempo, come nel periodo del summer, che stresa i bambini e che rende le bambini più suscettibili a un problema e a un problema. Questo significa che abbiamo bisogno di mantenere l'acqua nelle città per avere più l'acqua nei bambini, per avere più l'acqua nei bambini, per avere meno stress. Penso che comunque il lavoro del forestale, dell'agronomo in città, sia proprio un lavoro di accompagnamento della natura in questa sua crescita, calato nel contesto in cui ci troviamo, quindi di forti pressioni, di una società, di un'urbanizzazione che cambia in modo molto veloce. Le buone pratiche sono quelle che iniziano quando si pensa di mettere un nuovo albero, quindi mettere l'albero di Natale dopo le feste nel cortile a un metro da casa, non si dovrà più fare. Molto spesso non vengono tenute in considerazione quelle che sono le esigenze di crescita delle piante e quindi le distanze da confini, fabbricati, le distanze tra una pianta e l'altra, che devono essere invece correttamente progettate, magari affidandosi a un professionista e quindi risolvere prima i problemi che si possono avere a distanza di decenni. Tre, quattro piccole regole. Innanzitutto la fase giovanile della pianta. Quando si pianta un albero, pianta giusta al posto giusto. Al posto giusto quindi che abbia la quantità di terra di superficie drenante e arieggiata sufficiente, c'è una regola non scritta, ma che si può tenere, che ogni pianta ha bisogno di 5 metri per 5 metri di superficie libera. Intanto le piante vivono perché hanno le radici, quindi le radici per vivere hanno bisogno di umidità, di acqua, ma di aria. Quindi tutto quello che toglie l'acqua e l'aria alle radici, mette le piante in cattive condizioni. Quello lì deve essere uno spazio sacro e inviolabile. Quindi no le macchine parcheggiate, no gli scavi, no queste cose qui. Addirittura se andiamo in Inghilterra a visitare i parchi di Londra, le piante vetuste, le piante più anziane, i patriarchi del parco, hanno interdetto il calpestio pedonale alla base della pianta. Quando si fanno degli scavi in lungo alberate, o nei parchi, o nei giardini, in cui a più riprese si fanno danni alle radici, perché le radici sono intersecate con la fogna, con l'elettricità, con il gas, con la fibra, e ogni due anni aprono e richiudono. Ecco, questi sono danni gravissimi. Che si prende esempio da quello che si vede all'estero, per cui il coordinamento tra i vari settori all'interno di un'amministrazione comunale dovrebbe essere la base. La base per la buona gestione, perché io devo piantare un albero che non vada a rovinare un marciapiede, e sono d'accordo, ma anche chi costruisce i marciapiedi o chi deve gestire le fognature, deve gestire i sottoservizi, deve considerare che ci sono le piante. In Germania è vietato tagliare radici oltre 3 centimetri di diametro. Prima di fare un intervento su un edificio, costruire una casa o ristrutturarla, la prima persona che viene chiamata è l'agronomo, che definisce quelle che sono le regole del cantiere. Noi in Italia questa concezione non ce l'abbiamo proprio. Evitare i danni al piede, i maledetti decespugliatori, che sono degli attrezzi maledetti, perché col decespugliatore quando si colpisce la base del tronco viene o ferito, ma anche se non viene ferito, quei colpi alla base del tronco, soprattutto nel periodo primaverile quando la pianta è in succhio, crea delle micro fratture a tutti i vasi linfatici della pianta che crea dei grossi problemi. Addirittura abbiamo visto piante dopo 15-20 anni dall'impianto stroncarsi alla base a causa di questi danni. Molti nostri alberi, che sono oggi alberi fragili, sono fragili perché sono stati mal curati in passato e potati in una maniera così impattante da determinarne la loro fragilità futura. Gli alberi non hanno bisogno delle potature, siamo noi che abbiamo bisogno di potare gli alberi quando sbagliamo a piantarli. Se noi facciamo un sesto di impianto per dei platani che hanno una chioma che può raggiungere 10 metri per parte e li mettiamo uno ogni 5 metri, è ovvio che abbiamo sbagliato e che per tutta la vita di questi alberi dovremmo continuare a potarli. Capitozzare gli alberi non sarà una soluzione, perché indebolisce l'albero e quindi è vero che sarà meno esposto al vento ma è anche vero che sarà talmente indebolito che non cade quest'anno ma cadrà fa 3 anni. Se la tagli nella maniera corretta la pianta non avverte la potatura, non ha questi riscoppi, queste crescite esagerate, cosa che invece si vede spesso nei viali cittadini che hanno subito le capitossature. Dopo 3-4 anni le piante sono di nuovo esattamente come prima. Una potatura virtuosa non deve mutare l'architettura naturale dell'albero che si autocostruisce in funzione dei carichi ai quali è sottoposto. Di conseguenza la dinamica di un albero all'interno di una tempesta è veramente interessante. Ci sono dei filmati prodotti per esempio da un ricercatore americano che si chiama Gilman che fa proprio vedere che c'è un movimento compensatorio. Quando la punta dell'albero viene spostata in una certa direzione c'è un ritardo del corpo dell'albero che è dall'altra parte e viceversa abbiamo questo movimento che autocompensa e che neutralizza in un certo senso le raffiche di vento. Il trick climbing è una tecnica di lavoro che permette di salire sugli alberi in completa sicurezza. Permette di lavorare molto bene all'interno della chioma e non ha limiti perché con le corde riusciamo ad arrivare in qualunque punto dell'albero e in qualunque zona si trovi un albero. Secondo me il trick climbing proprio perché ti permette di arrivare in qualunque punto dell'albero è il modo più rispettoso e corretto per poter intervenire su una pianta perché il cestello, la piattaforma a una certa altezza, a un certo sbraccio arrivo se non arrivo il lavoro lo devo fare e taglio. e siamo a 6 siamo a 10 centesimi è dimostrato che in caso di intemperie o di gravi fortunali ovviamente le piante più deboli le piante meno stabili le piante cariate o con cavità sono quelle che vengono giù per prime e di conseguenza tecnologie come la tomografia come le prove di carico i pooling test eccetera dopo uno screening visivo approfondito fa sì che sia possibile andare puntualmente su alcuni soggetti per vedere se hanno una sezione portante sufficiente per sopportare certi carichi o addirittura un apparato radicale sufficientemente saldo da poter sorreggere l'albero. La tomografia ci permette di capire la qualità interna del legno e attraverso delle onde sonore che sono date dall'impulso del battere il martello su questi sensori ogni sensore arriva a collegarsi l'uno con l'altro e sulla base della velocità di propagazione del suono all'interno del legno si riesce a determinare quelle che sono i punti più critici o meno dell'albero. Perché le strumenti che sono disponibili e le metodi moderni che sono disponibili la qualità del lavoro degli arboristi è molto migliore di quello che avevano nel passato. Quindi gli arboristi sono molto più capiti a decidere quali bambini sono potenti e quali bambini si potrebbero ritorni per un po' di tempo anche se sono probabilmente un po' defective perché especially the old defective trees are very important not only for urban climate but for biodiversity. Nelle città molto spesso non viene considerato che un albero un essere vivente e come tale ha un ciclo vitale quindi nasce, cresce e prima o poi muore avendo noi il compito di gestire la fruizione pubblica di un giardino, di una strada, di un parco quello che è dobbiamo fare in modo che le persone che fruiscono di questo bene lo facciano in sicurezza. È praticamente impossibile fare un bambino assolutamente sicuro perché ogni bambino anche un bambino totalmente intatto può bruciare in una strada o può riposare in un'estrema ma possiamo assicurare che i bambini che sono più probabilmente di bruciare possiamo assicurare che troviamo questi bambini e identificiamo questi bambini e li prendiamo fuori. In una città bisognerebbe che tutti capissero che quando abbiamo un albero che viene classificato in una classe di pericolosità di caduta quell'albero deve essere sostituito. L'abbattimento credo sia l'ultima spiaggia. Le piante che vengono tagliate sono sempre piante che hanno dei difetti importanti. È vero che in alcuni casi non è visibile il difetto. Chi si trova a dover lavorare in questo settore come me si trova all'interno di un conflitto alle volte. Mai come oggi questa conflittualità si esprime in maniera violenta. I cittadini si schierano in comitati. È chiaro che però come singoli cittadini hanno bisogno di un supporto tecnico. Prima di andare a definire se l'albero era sano o meno è opportuno andare a leggersi la perizia del tecnico poi discutere su quella. Ecco, il ruolo del politico è quello da una parte di sapere spiegare alla cittadinanza che un intervento su un albero che sia di potatura se è fatta bene che sia di abbattimento perché è necessario che sia di sostituzione deve sapere capire quando un'azione è necessaria se è necessaria se è giusta anche rispetto alle risorse che impiega e soprattutto essere consapevole che ci sono i casi in cui noi dobbiamo garantire la sicurezza delle persone. È inutile andare a spendere dei soldi su una pianta che ormai è a fine vita una pianta dobbiamo spendere soldi su piante che sono importanti oppure su piante che sono su obiettivi sensibili. Non è che gli agronomi vogliono abbattere gli alberi anzi gli agronomi vogliono mantenerli gli alberi così come noi vogliamo mantenerli. La nostra città è per esempio una città molto ricca di alberi monumentali di cui siamo orgogliosi e che vengono accuditi amorosamente. L'albero diventa monumentale quando raggiunge delle dimensioni eccezionali oppure a una forma particolare o ancora legata a un evento storico oppure un esemplare alquanto raro. La pubblica amministrazione deve fare in modo che anche il privato si assoggetti a una disciplina. Noi abbiamo il nostro regolamento del verde che si chiama regolamento d'uso e di tutela del verde pubblico e privato. quindi noi regolamentiamo il verde privato. Il regolamento ha l'ambizione di tenere sotto controllo il patrimonio della città perché anche un albero in aree private è un patrimonio e un bene comune perché la sua funzione la svolge anche se è dentro a un giardino recintato. Da troppo poco tempo che si pretende una qualità certificata nella gestione degli alberi. Le amministrazioni pubbliche in Italia molto spesso devono stare alle regole che sono le regole degli appalti e per cui non hanno questa libertà per poter decidere in autonomia di scegliere quell'azienda rispetto a quell'altra perché qualitativamente è migliore. Esiste la certificazione European Tree Worker se i comuni prendessero questa certificazione che di fatto è una certificazione riconosciuta in tutta Europa come una condizione per poter intervenire sulle piante sarebbe una buona cosa. Quindi non si può pensare che a un certo punto un grande progetto una grande realizzazione poi abbia una bassa qualità manutentiva. In un'ottica di città che va pensata e va immaginata come una città del futuro anche le tipologie di verde tradizionali per esempio l'albero al centro dell'aiuola con una specie di copertura erbacea questa visione si sta ampliando sta cambiando che non significa buttare via la storia del giardino ma pensare a quali sono le soluzioni di verde che si integrano all'interno della città e che possono effettivamente migliorare le condizioni ambientali che un ambiente come quello della città con tutto il suo carico di problemi non solo ambientali ma anche sociali porta e fra questo ci sono n soluzioni che prevedono l'uso dell'albero come strumento anche per intercettare le polveri intercettare le acque piovane mitigare gli eccessi climatici ma anche per recuperare un rapporto con l'uomo l'integrazione fra il verde e il costruito in particolare aumenta la possibilità di applicare natura all'interno delle città densificandole magari salendo in altezza anche portare la natura sugli edifici come se fosse una seconda pelle sia in facciata che in copertura è sicuramente non sostitutivo di un verde tradizionale ma è qualcosa che si aggiunge e che può dare delle opportunità mantenere questo tipo di giardino pensile a dei costi che sono 10-100 volte più alti rispetto a mantenere delle aree verdi di tipo drenante naturale se vogliamo agire in termini di efficacia eccetera bisogna lavorare su una grande dimensione di sistemi verdi per far questo bisogna lavorare quindi innanzitutto su parchi diciamo più di tipo estensivo e forestale che non di tipo giardinistico tradizionale per esempio la città di Stoccarda è fatta così ci sono corridoi verdi che congiungono i parchi del centro città con le foreste che ci sono fuori quindi anche la fauna ha agio di muoversi tra centro e periferia quindi esattamente il contrario di quello che si diceva tra dicotomia tra civita e silva un secondo esempio è quello di intervenire a livello di normative urbanistiche perché purtroppo quando si fanno nuovi interventi urbanistici abbiamo delle indicazioni di mantenere come superfici drenanti dei singoli lotti in cui si interviene delle superfici che vanno dal 10 al 30% è troppo poco piantare gli alberi è una cosa relativamente semplice il problema è riuscire poi a dedicargli la cura necessaria perché se piantiamo degli alberi che poi non siamo in grado di irrigare di curare di potare di controllare non ha senso quando studiavamo ci parlavano del cosiddetto concetto di turno che è un tempo oltre il quale tu poi decidi che quella pianta non è più adatta alla tua esigenza per cui uno potrebbe dire che in città magari assegna un turno quindi un ciclo di vita una scadenza a quel determinato verde che crea la necessità di pensare alla città in un altro modo che esca un po' dalle regole e che sia una città più a misura di natura e che la includa sicuramente fanno cambiare molte delle regole di progettazione anche a livello di master plan ci sono moltissime moltissime realtà anche europee dove questa cosa si fa da decenni oramai penso alla Germania che da sempre studia molto gli effetti sul microclima dei nuovi insediamenti nei climi estremi l'orientamento degli edifici può dare dei vantaggi al verde proteggendolo ombreggiandolo in certe ore della giornata e quindi rendendolo meno sottoposto a condizioni estreme non considerare che sia inevitabile lo sviluppo e la crescita delle città a livello globale chi l'ha detto che le città debbano entro il 2050 ospitare più del 50% della popolazione mondiale si dice che l'80% della popolazione mondiale nel giro di qualche decennio vivrà in città e quindi è in città che si giocherà la grande battaglia anche rispetto al clima credo che gli alberi in città siano fondamentali per contribuire alla qualità della vita delle persone le persone quando sono sotto gli alberi o vicino agli alberi stanno meglio noi dobbiamo davvero pensare che gli alberi siano un pezzo fondamentale della costruzione delle nostre città di domani di domani di domani Grazie a tutti.